salute pure voi qua non bastava il professore di fronte lì che a ogni ora del giorno e della notte sta sempre lì pronto a chiedermi cose a farmi domande a disturbarmi come non siete qui per disturbarmi volete notizie in merito allo spettacolo no ma quest'anno lo spettacolo non lo facciamo no per carità quello qua dentro è pieno di fantasmi dovete sapere che in questo teatro ci sono delle presenze che proprio no fermo ma che dici ma che fantasmi e fantasmi salve no 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 tranquilli quello stava scherzando non ci stanno i fantasmi qua dentro ma che si pazza ma è troppo paura la gente non bene nessuno a ciaveria così siete mai una tazzina di caffè in zanta pace mi volevo prendere questo è tutto capondo che gli do caffè stai zitto lascia parlare me ascoltatevi a dicembre saremo nuovamente in scena con un nuovissimo spettacolo targato le maschere del vesuvio è un capolavoro assoluto questi fantasmi una commesia in tre atti di dodo del filippo dal 6 al 9 dicembre sempre qui al teatro rennazoni a san sebastiano al vesuvio e mi raccomando non mancate vi aspettiamo è e fantasmi ma ma poi dico io una scusa migliore non te la sapevi inventare no perché sa da più un caffè sull'istica e lei non può essere scocciato avete visto io ve l'ho detto che qua dentro ci sono le presenze ma non è vero grazie 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 grazie